Poteva avere conseguenze gravissime l'incidente stradale che si è verificato pochi istanti fa qui in piazza Chairoli, una utilitaria con una ragazza a bordo è salita sulla piazza, ha sondato una iola ed è finita contro la fontana, la vedete? Per fortuna in quel momento non c'erano persone nella traiettoria della vettura e dunque soltanto una persona ferita ti conduceva l'auto che potenzialmente è stata trasportata in ospedale. A quest'ora la piazza è sempre molto frequentata anche da ragazzi e da bambini e nelle ultime settimane sappiamo di come incidenti analoghi siano avvenuti con conseguenze ben più tragiche in altre parti d'Italia. Questa è la traiettoria seguita dalla vettura, vedete? Ha sfondato addirittura una panchina ed è finita contro la fontana. Per fortuna nella traiettoria non c'era alcun passato, altrimenti questa sera davvero staremo a parlare di altro, a parlare di una tragedia.